Buonasera, seconda edizione del Tg Riviera dei Fiori. Nel nostro telegiornale parleremo di un'operazione per lo sgombro di una baraccopoli in zona lavesca a Sanremo, poi ci occuperemo anche del Consiglio Comunale di Imperia. Questa sera la seduta, il Consiglio monotematico che parlerà del prodo portuale e si dovrà determinare se il sindaco Paolo Strescino ha ancora una maggioranza. E poi parleremo anche delle vostre segnalazioni e di spettacoli. Iniziamo con la cronaca. Riguarda anche la provincia di Imperia, un'operazione dei carabinieri di Albenga che ha portato in carcere sei persone tra i 20 e i 30 anni di origine albanesi ma residenti a Napoli. La banda di albanesi aveva come sede fissa la località di Caivano nel Napoletano e da lì tramite diversi basisti con nazionali si spostava in trasferte per eseguire una serie di furti e poi piazzare la refurtiva sempre in campagna. In totale alla banda vengono contestati 18 furti in abitazione nel Savonese tra Albenga, Andorra, Albisola Superiore, Pietra Ligure, Celle Ligure e Varazze ed anche in provincia di Imperia, soprattutto nel Dianese. La banda utilizzava le piazzole dell'autostrada come punti di partenza per i ride. Scavalcavano la rete e i furti avvenivano nel raggio di 500 metri o al massimo un chilometro dall'autostrada nelle ville poco distanti. Poi un complice passava a recuperare la refurtiva nella piazzola. Il 4 aprile, avendo già abbastanza elementi, i carabinieri di Albenga hanno deciso di intervenire per non permettere agli uomini di fuggire. Tutti sono stati arrestati e parecchia refurtiva è stata anche recuperata. Smantellata questa mattina una baraccopoli, torniamo a Sanremo, nascosta in zona Lavesca che sorgeva in un terreno privato. Sul posto hanno operato gli agenti della Polizia Municipale e gli operai del Comune. Il servizio è dieta Barbarotto. Gli agenti della Polizia Municipale di Sanremo stamani sono tornati in zona Lavesca per smontare la baraccopoli che avevano individuato nelle scorse settimane su di un terreno privato, dove nella stessa zona avevano smantellato un'altra tendopoli occupata da individui che vivono nel degrado totale, andando anche a deturpare il paesaggio. Oggi, muniti delle necessarie autorizzazioni, hanno provveduto a far sgomberare la zona. È emerso che sei persone di nazionalità romena si erano creati come domicilio questo appezzamento di terreno, a pochissimi metri dall'Aurelia. Un nascondiglio perfetto, grazie ai teloni usati nel recinto creato appositamente per contenere il rifugio dei sbandati. Gli agenti hanno rinvenuto diversi giacigli e tutto l'occorrente per cucinare, restando ben nascosti. Le baracche sono state tolte e l'immondizia accumulata portata via. Nella stessa zona, in passato, sono già state scoperte e smantellate situazioni di degrado simile a questa, che stiamo vedendo in queste immagini. Il Comune ha provveduto anche ad inviare una squadra di operai per affiancare l'opera degli agenti della Polizia Municipale per la pulizia della zona. Al momento dell'intervento nessuno dei rumeni era presente. All'interno delle tende, però, sono stati trovati dei documenti di persone già identificate sempre nell'ambito di operazioni simili. Il Consiglio Comunale è monotematico questa sera ad Imperia. Il Consiglio è convocato su richiesta anche delle minoranze, incentrato sul nuovo porto turistico, sulla concessione che dovrà essere, secondo il Comune di Imperia, revocata la porto di Imperia SPA alla società che ha costruito e dovrebbe gestire il nuovo approdo. La delibera salva Imperia dovrebbe essere votata dalla maggioranza dei consiglieri comunali, una delibera nel quale ci sarà anche prevista, sembra, la richiesta di responsabilità rispetto ai costi della Prodo, oltre alla revoca della concessione edilizia, sempre per la porto di Imperia SPA e quindi successivamente la gara di apparto. Tutto questo in Consiglio Comunale. Poi il sindaco Paolo Strescino, che presenterà anche la nuova giunta tecnica, potrebbe anche non avere più una maggioranza, salvo colpi di scena, come ad esempio il deniego del consigliere De Marco di sedere nei banchi del Consiglio Comunale. Sentiamo i particolari nel servizio. Ancora un colpo di scena questa mattina, poche ore dal Consiglio Comunale monotematico sul porto, convocato a partire dalle 20 di questa sera. Il consigliere Antonio Di Marco, che avrebbe dovuto subentrare al dimissionario Augusto Ferrari, ha consegnato nelle mani del sindaco Paolo Strescino la sua rinuncia a far parte del parlamentino. A questo punto, al suo posto, siederà negli scranni del PDL il giovane Simone Vassallo. La notizia ha un suo peso politico in quanto non si è fermata la caccia ai voti dei consiglieri per far dimettere il primo cittadino e Vassallo risulta molto legato a Strescino. La sua presenza quindi è un tassello in più a favore del sindaco, così come un altro tassello importante è dato dall'inchiesta aperta dalla procura imperiese sulle pressioni esercitate da esponenti del PDL o comunque vicini al partito per far dimettere consiglieri di maggioranza e opposizione e causare la caduta dell'amministrazione comunale. Il quadro in ogni caso è a tinte fosche e pesanti che non potranno che ripercuotersi sulla discussione di questa sera. Difficile in ogni caso al momento prevedere quale futuro potrà avere il sindaco Strescino, ma comunque se di missioni si parlerà non dovrebbe essere una questione immediata. E proseguono gli appuntamenti fieristici per la provincia di Imperia con una promozione in Italia all'estero finalizzata a far conoscere il territorio, a promuovere gli offerti e i prodotti turistici e ricettivi nel tentativo di contribuire al rilancio di tutta la riviera. L'amministrazione provinciale di Imperia guidata dal presidente Luigi Sappa attraverso le strutture dell'assessorato al turismo e dei sistemi turistici locali Riviera dei Fiori nell'ambito dell'attività di promozione della destinazione nei mercati nazionali ed internazionali partecipa ad una serie di importanti appuntamenti fieristici in Italia e all'estero attraverso un progetto avviato in collaborazione con l'azienda speciale della Camera di Commercio di Imperia, quindi doppia sinergia per la riviera dei Fiori. Ed ora torniamo alle vostre segnalazioni. Alberto Guasco. Dopo le segnalazioni dei giorni scorsi, prima di Pasqua, che sono già state oggetto di un altro servizio, siamo tornati ad occuparci di questo accesso al lungomare Italo Calvino. Questa strada, proveniente da Ventimiglia, qui siamo in corso imperatrice praticamente, in questo tratto di strada è sempre stato possibile, per chi arrivava da Ventimiglia, svoltare verso il lungomare. Chi lo utilizzava per fermarsi nel parcheggio, chi lo utilizzava come strada di scorrimento per poi andare fino alla zona del porto vecchio, tanto per capirci. Come dicevamo, fino a pochi giorni fa, cioè fino a quando era in funzione il parcheggio a pagamento, qui si poteva svoltare, si poteva accedere al parcheggio, si entrava, si pagava e si posteggiava. Adesso non si può più accedere, è stato messo proprio un divieto fisso. La spiegazione che ci è stata data per questo cambiamento, per questo divieto, è stata questa. Questo incrocio non sarebbe a norma, è pericolosa questo tipo di svolta a destra. Era tollerata fino a quando c'era il parcheggio a pagamento, con tanto di sbarre, perché si partiva dal principio che le macchine che svoltavano qui a destra erano poche. Adesso che la strada è libera, è più percorribile, le macchine sarebbero troppe e questo incrocio, che pare appunto non essere a norma, può diventare pericoloso. Il Comune ha quindi deciso di mettere questo divieto. La spiegazione non ci ha convinto più di tanto, anche perché per anni qui è stato possibile svoltare a destra, anche quando l'accesso era più stretto. Però evidentemente qualcosa è cambiato. Infine ci hanno detto che se il parcheggio tornerà a pagamento con tanto di sbarre, verrà riaperto questo accesso così com'è. Se invece il passaggio resterà libero senza sbarre e quindi si potrà utilizzare come strada di scorrimento, dovranno essere effettuate delle modifiche strutturali a questo angolo di incrocio per poter consentire la svolta a destra. Lo ripetiamo, la cosa prende un po' di sorpresa a tutti perché per decenni è stato così, ma si vede che qualcosa è cambiato nel regolamento, qualcosa sarà cambiato nel codice della strada. Questo ci avevate chiesto, questa è la spiegazione che ci hanno dato. Lo sappiamo che non è convincente al 100%, ma resteremo poi in attesa delle decisioni del Comune su questa vicenda. E adesso la pagina degli spettacoli. Speciale appuntamento quello di domenica 15 aprile nel Teatro dell'Opera delle Casino di Sanremo. Ad esibirsi sullo storico palco della Casa da Gioco saranno due musicisti di gran pregio che hanno forti legami con la città di Sanremo, violinista il primo, Davide Laura, chitarrista il secondo, Marco Parodi, milanese il primo, tolinese il secondo, ma entrambi molto legati alla riviera dei fiori. Si chiude con il loro concetto la rassegna Cantori e musicisti di Liguria, curato da Dodo Goia, che Eta Barbarotto ha intervistato. Si chiude il ciclo degli appuntamenti dedicati ai grandi artisti liguri, ma soprattutto Sanremesi che hanno portato proprio il nome di Sanremo nel mondo. Sì, abbiamo cercato di dare una mano a tutti questi musicisti, scrittori, poeti, ma non a tutti, alcuni, liguri e soprattutto Sanremesi che si sono distinti e che girano il mondo e che sono conosciuti. Io lo ero un tempo, adesso ormai con gli anni ho ceduto un po' il... E niente, abbiamo cominciato a dicembre, gennaio, ci sono stati tra gli altri un ligure di adozione che Enrico Rava, Andrea Pozza di Genova, Giuseppe Conte, io, Andrea Dulbecco, che è un altro grandissimo musicista che vive a Milano, nato a Sanremo, di Sanremo, Alessio Menconi, chitarrista genovese, insomma è stata una cosa... Delle belle domeniche pomeriggio siamo riusciti a mettere insieme e abbiamo fatto un ciclo di quattro cose mensili e siccome la domenica pomeriggio la gente non sa cosa fare di solito in queste stagioni soprattutto, abbiamo pensato di farle alla domenica, la domenica pomeriggio infatti abbiamo avuto anche un bel successo nonostante certe cose, per esempio la poesia, non è che sia una cosa da grande pubblico, diciamo. Bene, domenica prossima, 15, il pomeriggio alle quattro e mezza, si conclude questo ciclo con un formidabile violinista che è il figlio di Massimo Laura, il chitarrista classico famoso, Sanremese anche lui, Davide Laura, che suonerà in duo con questo pianista di toro che io ho sentito l'altro giorno alla radio, a Radio 3 e suona molto molto bene e poi Parodi, Marco Parodi che è un chitarrista, anche lui di Sanremo, trapiantato a Torino, in duo e faranno delle musiche jazz molto molto orecchiabili, molto alla portata della gente. Sono diciamo sulla strada di Django Reynard, di questi vecchi grandi musicisti che suonavano questa musica che stava tra il jazz e la musica zigana e niente, sarà sicuramente una giornata molto bella e cerchiamo di far venire il massimo, cioè più gente possibile. Allora, invitiamo i cittadini a presentarsi dove? Al Casino, al Teatro dell'Opera alle 4, 4, 4 e mezza, inizierà alle 4 e mezza e il biglietto costa 10 euro. Bene, siamo in chiusura del nostro notiziario, subito dopo nello spazio approfondimento parleremo di nuove dipendenze con l'Ancora, il centro di solidarietà e recupero dell'Ancora della provincia di Imperi, avremo con noi anche il vicepresidente, la dottoressa Silvia Marcuzzo, parleremo appunto attraverso un loro nuovo programma che si chiama il progetto ambulatoriale che si chiama Prisma, delle nuove dipendenze che purtroppo stanno aggredendo anche i giovani, la cocaina e la dipendenza da gioco e quindi il gioco patologico. Subito dopo il nostro telegiornale. Rimanete con noi, grazie. Rimanete con noi, grazie. Rimanete con noi, grazie. Grazie. Grazie.